Continuiamo questa diretta dall'artigianato di Pinerolo, proseguiremo fino alle 6, quindi insomma abbiamo ancora un bel po' di ospiti da far passare. Eh sì, il prossimo sono particolarmente contento di presentarlo proprio per la mia funzione di giornalista sportivo, diciamo così, di RBA Radio TV, perché è con noi la neo-capitana di Union Volley, Silvia Bussoli, Silvia ti ritrovo con grande piacere, con un grado in più quest'anno. Eh già, un grado in più, super contenta, super contenta di essere qui, è sempre un piacere rivederti, e niente, sì, sono fiera e orgogliosa di questo nuovo ruolo che mi è stato affibbiato, come ho già dichiarato, probabilmente è simbolo di una grossa fiducia reciproca che c'è tra me, la società, lo staff e tutti, e niente, non posso che essere strafelice di questo. Ecco, la prima cosa che ho pensato quando ho letto questa notizia è che era così una cosa strameritata proprio per il modo in cui tu hai anche vissuto questa stagione, che magari ti ha vista poco protagonista in campo, ma sempre presente, sempre partecipe, sempre parte del gruppo e trascinatrice, anche fuori dal campo. Deriva ovviamente da questo, ecco, la scelta di fare il capitano, oltre che un legame con la città. Sì, io non ho mai nascosto il mio legame a questa città, è tantissimo che sono qui, ormai è come se fosse casa mia, e l'anno scorso, come hai detto tu, pur non essendo principale protagonista nel campo, comunque vi posso garantire che ho vissuto al 100% tutte le emozioni, sofferenza, la felicità estrema finale, perché alla fine abbiamo fatto quasi un miracolo, dico io, e quindi, insomma, felice di essere lì, felice di sostenere le mie compagnie sempre, sempre lo farò, e felice di far parte di questa squadra che ormai sento mia. Eh sì, ecco, come dicevamo fuori onda, l'anno scorso le ragazze ci hanno dato molte, molte, pure qualcuna di troppo emozione, ci hanno fatto vivere col fiato sospeso, ma poi un finale davvero straordinario, io ancora ricordo quella bellissima conferenza stampa con tutte le ragazze presenti in un clima di euforia totale, ecco, di un sogno, perché a un certo punto sembrava quasi impossibile. Ecco, torni, facciamo questo passo indietro, qual è stato un po' lo scatto? Perché, come ci avete raccontato, ci sono stati dei momenti per cui anche per voi non è stato facile crederci. No, assolutamente, io penso che la gara più in down che abbiamo fatto e che ci ha detto, oddio, forse non ce la facciamo, è stata la gara contro Cuneo. Quindi, secondo me, lo scatto è un po' da ricollegare a quello. Nel momento in cui, tra virgolette, tocchi il fondo, ti rendi conto che forse è il momento di risalire. E quindi da lì, effettivamente, ci sono state le tre partite più importanti della stagione, in cui effettivamente si è visto che c'è stato un'unione di squadra tale da permetterci di poi vincere le partite importanti che contavano per fare i punti per rimanere in Serie A 1. Eh sì, proprio sul filo di lana. Allora, io vorrei passare la palla, appunto, anzi alzare la palla a Corinne, che è, come ci diceva, neofita un po' del mondo del volley. E vorrei capire qual è una curiosità da esterna che vorresti chiedere alla nostra capitana. Mi passi la palla, però rischi, perché io a pallavolo sono sempre stata scarsissima, quindi questa volta riesco a prenderla. Di solito le facevo sempre cascare. Curiosità da neofita e proprio, addio, neocapitana. Quindi quali responsabilità avrai quest'anno? Urca. Allora, sicuramente la responsabilità principale di un capitano è quella di mantenere una squadra unita, perché poi nella femminile, come ci insegna, diciamo, l'esperienza, quello che fa davvero la differenza in campo è proprio la coesione che c'è tra le ragazze. Sono convinta che se nello spogliatoio non si va d'accordo diventa una grossa lacuna per noi, soprattutto perché siamo donne e quindi il fatto di non andare d'accordo si ripercuote molto anche sul campo, a differenza della maschile che su questo aspetto invece è totalmente diverso, perché sai, le donne sono molto manipolatrici, lavorano sempre da dietro le quinte, non sai mai veramente cosa pensano e quindi è difficile questo, mantenere unita la squadra. Poi ci sono tutti i compiti minori ma non minori, nel senso di comunicare con la società, responsabilità in campo, fuori, comunicare con l'allenatore, capire quali sono magari i limiti, le cose da migliorare, da non migliorare. Questi sono un po' i compiti da capitano. Certo, ecco, capitano di una squadra profondamente cambiata rispetto alla scorsa stagione, c'è una grande attesa perché sono arrivati anche nomi importanti che vorrebbero così un po' proseguire quel percorso di continua crescita che osserviamo già dalla B1, addirittura non c'eri ancora tu, quindi insomma si parla di qualche anno fa e allora ti chiedo come si sta costruendo questa squadra, c'è stato già modo di vederla in campo contro Busto Arsizio per la prima amichevole, quali sono un po' le tue sensazioni di questo primo periodo di lavoro? Allora assolutamente, le ragazze nuove sono tante, nel senso che quest'anno, come hai detto tu, si è cercato di fare una crescita in tutti i sensi, sicuramente l'arrivo di un atleta come Indre Sorokaita, che comunque ha fatto un'olimpiade, è importante sia dal punto di crescita tecnico della squadra ma anche dal punto di vista morale e personale, nel senso che penso che questa società abbia voglia di crescere, abbia voglia di migliorare e inserire persone come Indre che comunque ti possono dare un'esperienza di un certo tipo sia assolutamente importante per questa crescita che loro vogliono fare in tutti i campi e dal punto di vista di squadra la prima amichevole è andata bene, abbiamo vinto 4-0, è vero era contro 1-2, quindi diciamo la categoria inferiore, però alla fine, come diciamo noi, si parte per gradi, per cui partiamo dalle cose più facili per poi arrivare a quelle più difficili. I segnali sono sicuramente stati stra-positivi, non mi piace fare confronti con l'anno scorso, quindi eliminiamo il confronto, però sicuramente abbiamo dato dei segnali iper-positivi in tutti i campi. Coach Michele Marchiero ha parlato di una squadra della più offensiva che abbia mai allenato, ci sarà modo anche di tra l'altro vedere i progressi della squadra anche in settimana, giocherete mi pare contro Cuneo e poi domenica contro Chieri che forse sarà il test che comincerà a dire qualcosa in più visto il livello. Ora, te l'ho annunciato prima della diretta, la domanda sorpresa, ma non ti preoccupare, non ti spaventare, io ti vorrei chiedere, visto che siamo qui alla rassegna dell'artigianato, di fare così un confronto tra il lavoro dell'artigiano e il lavoro dello sportivo. Quali punti di contatto, anche in mondi apparentemente così diversi, vedi tra questi due mondi? Allora, devo fare una premessa, a me i mercatini dell'artigianato sono sempre piaciute, una cosa che io vado a vedere sempre, quando ci sono, e penso che la cosa più importante che condividiamo noi e gli artigiani sia la passione. La passione nel fare quello che facciamo, quindi mettere il proprio io nel nostro prodotto, gli artigiani un loro prodotto e noi nella partita, nella pallavolo, quindi questo penso sia il punto di incontro. Io da esterno, perché insomma io lo sport lo racconto, l'ho giocato, ma insomma a livello più basso che si possa immaginare, però ecco anche forse la cura del dettaglio può essere un punto che accomuna due mondi. Assolutamente, la tecnica e la cura del dettaglio che ci sono dietro sono importantissimi, vabbè soprattutto nella pallavolo penso che sia uno sport che si vede altamente tecnico, quindi la cura del dettaglio è all'ordine del giorno. Benissimo, noi ti ringraziamo Silvia per aver dedicato una parte del tuo giorno libero, perché oggi insomma non vi allenate, siete in recupero, in una fase della stagione immagino piuttosto faticosa e insomma ti do appuntamento sicuramente domenica, sono curiosissimo di venire a vedere i progressi della squadra contro Chieri, che diventa già, anche se è un amichevole, una bellissima partita e insomma auguro naturalmente a te e a tutte le ragazze, a tutto lo staff, ogni bene per questa stagione, togliete, dateci tante soddisfazioni, anche con qualche emozione in meno va bene lo stesso. Grazie mille, no dai, le emozioni devono esserci, quindi... Certo, certo, ma abbiamo una bella scorta. Grazie, grazie mille. Bene, canzone e poi proseguiamo.